Ennesima ris sul litorale di Ponte Cagnano-Faiano. Il violento alterco, stando ai racconti dei presenti, avrebbe coinvolto almeno sei persone di diversa nazionalità, entrate in contatto per ragioni ancora in corso di accertamento e trasportate presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Nessuno dei feriti versa in gravi condizioni. Quella di sabato è solo l'ultima di una lunga serie di risse segnalate sul litorale picentino, vittima dell'abbandono e dell'incuria. Una situazione messa in evidenza più volte anche dai residenti, che chiedono azioni immediate alle forze dell'ordine e alle istituzioni.